Prosegue il monitoraggio ARPAC per la qualità dell'aria sul territorio irpino. Nel prossimo mese la centralina mobile stazionerà Grottolilla, comune strategico a ridosso dell'area industriale di Piano Dardine e della Valle del Sabato. Per il direttore Stefano Sorvino siamo di fronte a un'area dove insistono criticità significative. Sicuramente sono situazioni da attenzionare perché contengono delle perduranti criticità. Ma le criticità sono largamente diffuse sul territorio regionale e nazionale, quindi è una problematica immanente sul territorio, anche su questo territorio che va studiata punto per punto, aspetto per aspetto. Su cui occorrono interventi significativi, incisivi ed integrati perché non c'è alcuna misura singola come tale risolutiva ma è un mix di azioni che devono essere poste in essere. Questo territorio ha già dato, tu nel sindaco di Grottolilla Antonio Spiniello, basta con nuovi insediamenti industriali. Abbiamo avuto un incontro proprio in questi giorni con l'architetto Pisano, il presidente dell'Asi, col quale abbiamo concordato una variante al PRG dell'Asi che vede esclusa quest'area a Nocelleto completamente dal nuovo piano regolatore che è in fase di redazione. Bisogna cercare in tutti i modi di salvaguardare la salute dei cittadini, ormai è dimostrato che da attività scientifiche che comunque questo ambiente, questo tipo di aria crea problemi tumorali.